L'allarme arriva dal Piemonte e dal Veneto, ma è probabile che il problema sia molto più esteso. Gli uffici regionali infatti stanno faticando parecchio per trovare docenti o dirigenti scolastici disponibili a ricoprire l'incarico di presidente delle commissioni dell'esame di Stato. Tanto che dopo la prima circolare di qualche settimana fa i direttori regionali hanno dovuto scrivere una seconda volta alle scuole appellandosi al senso di responsabilità e di sacrificio di tutto il personale. Appello più che comprensibile ma che potrebbe rimanere inascoltato anche perché le regole d'ingaggio, chiamiamole così, non sono per nulla allettanti. I compensi sono modesti e le norme più recenti sulle emissioni dei dipendenti statali impediscono il rimborso delle spese per l'uso del mezzo proprio. E poi in questo periodo non sono tanti coloro che se la sentono di partecipare agli esami in presenza. Troppi rischi e troppe responsabilità. La situazione insomma è davvero delicata perché non sarà facile garantire il regolare svolgimento degli esami. Per esempio come si farà se un commissario interno o un presidente dovesse ammalarsi dopo l'avvio della procedura? Se già è difficile trovare un presidente ora, come si farà a individuarne uno a fine giugno o ai primi di luglio? Per non parlare poi dell'esame dei privatisti che si svolgerà a settembre in concomitanza con l'avvio del nuovo anno scolastico. Altro motivo per scoraggiare anche i più volenterosi a fare il presidente di commissione. E va segnalato che le prove preliminari per i privatisti sono previste a partire dal 10 luglio e impegneranno un certo numero di docenti delle classi quinte per i quali quindi potrebbe esservi difficoltà nella fruizione dei 32 giorni minimi di ferie. Lo stesso problema si presenterà per le commissioni dei concorsi che tra l'altro prevedono anche impegno e responsabilità maggiori a fronte di compensi fermi da parecchi anni e senza la possibilità di godere neppure di qualche forma di esonero anche solo parziale. Presi dal problema sicuramente più grave e più pressante di come avviare il prossimo anno scolastico, al Ministero sembrano non rendersi ben conto della situazione che però è davvero molto molto difficile. Più che dalle proteste dei docenti che non vogliono l'esame in presenza e dei precari che vorrebbero un percorso semplificato per soli titoli e servizio, esame di Stato e concorsi potrebbero naufragare per un motivo molto più banale. Mancano esaminatori, commissari, presidenti. Su questo tema noi ovviamente continueremo a tenervi informati anche perché qualche novità importante ci sarà proprio nelle prossime ore dal momento che sia in attesa di conoscere il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sulla bozza di ordinanza ministeriale relativa proprio all'esame di Stato. Quindi continuate a seguirci su questo canale e anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it Scriveteci, mandateci le vostre osservazioni e i vostri commenti, noi ne daremo conto come sempre. Grazie.